Cari amici, la regione Sardegna ha decretato la prima sconfitta della premier Giorgia Meloni da quando è al governo. Sì, perché il suo candidato, Truzzo, ha perso. E proprio nella città di Cagliari, dove è stato sindaco, ha perso per circa il 20% rispetto alla candidata Todde, appoggiata dai partiti di opposizione PD e 5 Stelle. A vincere le elezioni è stata Alessandra Todde, un ingegnere con due lauree, ex-men che ora governerà la regione Sardegna e sarà la prima donna a farlo. Ora nel centro-destra è iniziata una res dei conti perché, a quanto si dice, l'alleato Salvini non ha appoggiato convintamente Truzzo. Qualcuno si aspettava di più in campagna elettorale anche da Giorgia Meloni, che ricordiamo nelle ore cruciali finali della campagna elettorale era volata in Ucraina da Zelensky. Il partito democratico di Elin Schlenz si è affermato come il primo partito in Sardegna, mentre è da segnalare la debacle della Lega di Salvini, che non è arrivato al 4%. Un'aneddota di queste elezioni è che l'ex governatore della Sardegna, Renato Soru, è arrivato terzo con circa l'8% dei voti ed era appoggiato da Calenda. Mentre la figlia, Camilla Soru, era candidata con il partito democratico e molto probabilmente, a differenza di suo padre, entrerà nel Consiglio regionale. Ora bisognerà vedere da un lato se la maggioranza del centro-destra reggerà a questa sconfitta e dall'altro vedere se questa vittoria dell'alleanza tra PD e 5 Stelle potrà essere replicata a livello nazionale. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Ciao!